Dopo cinque mesi di battaglie sanguinosissime lunghe le trincee della prima guerra mondiale scoppia la pace, durerà solo un giorno e una notte ma renderà magico il Natale di 105 anni fa. Dalla fronte, dalle trincee tedesche, si alza il canto di Stille Nacht al quale fa eco quello inglese con Silent Night, un episodio che molti avrebbero voluto cancellare dalla storia invece ci viene riportato a volte in forma un po' romanzata dalle lettere dal fronte scritte appunto dai protagonisti e così si viene a sapere che la pace seppur è una tregua breve scoppia di sera dalle trincee tedesche si accendono le candele e si alzano i cori una pace che durerà solo un giorno e una notte ma che nella terra di nessuno scatena un abbraccio fraterno fra i nemici con scambio di souvenir, sigarette, bottoni, vengono accesi falò di giorno addirittura una partita di calcio che sarebbe stata vinta dai tedeschi per 3 a 2. una pace magica che dura il tempo di un sogno purtroppo la guerra con i suoi orrori riprenderà presto